C'è chi ha troppo e c'è chi ha niente, questo tutti ormai lo sanno, ma poi arrivano i regali di Natale e Capodanno. In quei giorni, lo sapete, gira un tipo mascherato e nessuno si ricorda perché mai l'hanno inventato. Papà Natale svegliati, i tuoi regali a chi gli dai, ci sono tanti al mondo sai, che hanno bisogno più di noi. Proprio avanti ai bei negozi, ecco quello strano tipo, bianco e rosso è il suo vestito, e da vecchio è mascherato, porta in testa un gran cappuccio e dai bieli gli stivali, una lunga barba bianca ma va in giro senza occhiali. Papà Natale svegliati, i tuoi regali a chi gli dai, ci sono tanti al mondo sai, che hanno bisogno più di noi. C'è chi ha poco e aiuta gli altri, e nel cuore è più contento, ma chi ha troppo e non dà niente, si lamenta ogni momento. Tu postino dei regali, prendi e mettiti gli occhiali, se la vita non è un sogno, guarda meglio. Chi ha bisogno? Papà Natale svegliati, i tuoi regali a chi gli dai, ci sono tanti al mondo sai, che hanno bisogno più di noi. Papà Natale svegliati, i tuoi regali a chi gli dai, ci sono tanti al mondo sai, che hanno bisogno più di noi. Papà Natale svegliati, i tuoi regali a chi gli dai, ci sono tanti al mondo sai, che hanno bisogno più di noi. Papà Natale svegliati, i tuoi regali a chi gli dai, ci sono tanti al mondo sai, che hanno bisogno più di noi. Papà Natale svegliati, i tuoi regali a chi gli dai, ci sono tanti al mondo sai. Papà Natale svegliati, i tuoi regali a chi gli dai, ci sono tanti al mondo sai, che hanno bisogno più di noi. Grazie a tutti.